Due coniugi, lui regista, sceneggiatore e scrittore, lei produttrice e televisiva, entrambi del pesarese, sarebbero stati raggirati da un quarantenne romano, sedicente consulente, che avrebbe dovuto aiutarli a risanare la loro situazione economica, compromessa a causa dei debiti accumulati con le banche. Marito e moglie, titolari di un patrimonio di tutto rispetto, avevano affidato all'uomo la gestione delle proprietà e la delega operare sui conti correnti bancari. In breve tempo, quindi, consapevole di aver acquistato la fiducia e l'affetto dei coniugi, il quarantenne li avrebbe indotti, dal 2017, ad effettuare operazioni immobiliari, tra cui la vendita di un prestigioso appartamento romano, al di sotto del valore di mercato, trattenendo la quota residua e il provento della vendita degli arredi di pregio, come statue, quadri e basso rilievi di marmo. Nel patrimonio, convertito in parte in lingotti d'oro dopo un suo suggerimento, c'erano anche quote di società con complessi alberghieri immobiliari, situati nella provincia di Pesero Urbino. Insospettiti dall'atteggiamento del consulente, che non mostrava i documenti delle operazioni e soprattutto dei lingotti, i due artisti hanno deciso di controllare i movimenti dei conti bancari, scoprendo di essere stati depredati non solo della liquidità, ma di gran parte delle proprietà. Così, hanno sporto querela contro l'uomo, che nel frattempo si era dileguato. L'indagine è stata eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare di Pesero, coordinati dal pubblico ministero, Maria Bice e Barborini, della Procura di Roma. La vicenda, infatti, si colloca nella capitale, dove per una vita i due coniugi hanno calcato le scene e dove sono stati sottoscritti i vari contratti per le operazioni incriminate. Gli investigatori ipotizzano i reati di truffa e appropriazione in debita, carico del quarantenne, insieme alla moglie, alla sorella e a un terzo uomo. Su richiesta del PM, il Tribunale di Roma ha emesso un decreto con il quale sono state sequestrate le quote della società immobiliare, un'auto di lusso comprata con i soldi prelevati dalla coppia, conti correnti e una cassetta di sicurezza bancaria. Tutto ciò al fine di rimettere i beni nella disponibilità dei coniugi raggirati.